Anche a quanto appare da questa seconda fase di beta pubblica, completa di tre modalità e altrettante mappe, il comparto multigiocatore di Battlefield Hardline non rinnega il proprio passato, né però si vuole limitare ad un mero cambio di setting. Il gunplay è quello di sempre, ma ad accorciarsi sono le distanze distribuite su mappe generalmente più contenute, capaci di veicolare un bel carico di caotica franesia, mentre il fattore strategico ed il coordinamento sono sempre lì a ricordarci cosa divide un team vincente da un gruppo disorganizzato. Corto circuito, la modalità etichettata fin da subito come qualcosa di mai visto nella serie Battlefield ci ha convinto relativamente. Rilettura libera della classica conquista prevede inseguimenti adrenalinici sui veicoli marchiati, che devono essere guidati dai criminali in punti specifici della mappa, alle forze speciali il compito di farli desistere. Per quanto divertente sulle prime, con la necessità di schizzare letteralmente fra le strade di Hardline, i limiti strutturali emergono abbastanza in fretta. In realtà le mappe paiono studiate per altri scopi che poco hanno a che spartire con gli inseguimenti nudi e crudi. La linearità si fonde meglio in mappe più contenute, come quella desertica, ricca di dislivelli ed aperta a strategie alternative per tendere o scampare ad eventuali agguati. Da rivedere ed arricchire, insomma, e specificamente con elementi che diano più pepe a spostamenti dal punto A al punto B. Rapina è una vecchia conoscenza. Questa volta il colpo ha luogo in un teatrino ad hoc, la mappa Bank Job. Due, i pacchetti da rubare dal cavo, che naturalmente necessita di cure esplosive, trasportabili necessariamente in punti di fuga specifici. Nel frattempo la polizia ha tutto il tempo per posizionarsi e fare irruzione. Qui chiaramente Battlefield Hardline dà il suo meglio. Bank Job, nonostante le dimensioni non certo ragguardevoli, dimostra note tentacolari particolarmente gradite, in grado di offrire vie di fuga diverse e aprire le porte a tattiche decisamente variegate. I ribaltamenti strategici sono frequenti e divertenti, con particolare attenzione alla verticalità della mappa, capace di fornire un senso compiuto ai rampini in dotazione e ai gadget a disposizione. Timing e appositi imbuti nel design della mappa facilitano il fuoco ravvicinato, anche grazie a coperture appositamente blande. Conquista non presenta particolari modifiche rispetto al passato. La mappa, ambientata in una cittadina desertica alla merce di loschi traffici, è chiaramente il terreno naturale per uno scontro tattico. Edifici di al massimo due piani e scantinati naturali fanno il paio con la necessità di arrivare preparati sul campo di battaglia. Conquista è un classico che pone il gancio però ad alcune considerazioni di massima, tra queste hitbox decisamente migliorabili, impossibilità di sparare dai veicoli, specificità dei singoli mezzi da rivedere, soprattutto sul fronte fisico. Pur largamente attese, ci saremmo aspettati anche qualcosa di diverso dalle classi. Le quattro proposte costituiscono un classico per Battlefield, qui però declinato su esigenze differenti, un'occasione persa per allargare ulteriormente gli orizzonti. Soddisfacente invece è il sistema di procacciamento dell'arsenale, acquistabile con i crediti guadagnati in-game. Un sistema che non dimentica i giocatori molto attivi o quelli particolarmente dotati. A livello tecnico, tutto sommato la beta fa il suo dovere. Framerate generoso, genuina profondità di campo, Polygon Count interessante, mentre l'effettistica fa il suo dovere senza troppi scossoni. Diverse invece le densità di dettaglio per le varie mappe, con una downtown forse un po' troppo spoglia, che fa da contraltare alla ricchezza di Bank Job. Purtroppo molto diffuse le scalettature. Questa seconda fase di beta di Battlefield Hardline presenta un assaggio complessivamente più invitante di quanto offerto l'estate scorsa, e probabilmente più sicuro delle proprie carte. Cortocircuito, esaurito all'effetto novità, rappresenta probabilmente l'anello più debole dell'offerta, mentre conquista e rapina sanno decisamente il fatto loro. Hardline è un Battlefield diverso, più intimista nelle dimensioni, eppure cacciarone e caotico. Un gioco anche a giudicare da questa beta che saprà dire qualcosa di suo, soprattutto in termini di puro divertimento. Tuttavia, solo un'attenta valutazione del pacchetto complessivo e della modalità singolo giocatore potranno dirci se il divertimento sarà anche supportato da contenuti sufficientemente ampi.